John, possiamo parlare dei 50.000 dollari che hai preso in prestito da me? Certo, che ne dici? Beh, sono passati diversi mesi e mi chiedevo quando posso aspettarmi di riaverlo. Beh, sono passati diversi mesi e mi chiedevo quando posso aspettarmi di riaverlo. Sì, a proposito. Speravo che potessimo parlarne un po' di più. Sì, a proposito. Speravo che potessimo parlarne un po' di più. Certo, capisco che le cose possano essere difficili a volte. Ma puoi dirmi di più sul motivo per cui avevi bisogno di soldi in primo luogo? Certo, capisco che le cose possano essere difficili a volte. Ma puoi dirmi di più sul motivo per cui avevi bisogno di soldi in primo luogo? Beh, sai che è da un po' che sto cercando di avviare un'attività in proprio. Avevo bisogno di soldi per investire in attrezzature e marketing. Beh, sai che è da un po' che sto cercando di avviare un'attività in proprio. Avevo bisogno di soldi per investire in attrezzature e marketing. Capisco. E come vanno gli affari? Capisco. E come vanno gli affari? Capisco. E' stato un po' lento, ma spero ancora che le cose si riprendano presto. Capisco. E' stato un po' lento, ma spero ancora che le cose si riprendano presto. Ok, ma in realtà non abbiamo parlato di termini specifici per il prestito. Speravo di recuperare i soldi entro pochi mesi. Ok, ma in realtà non abbiamo parlato di termini specifici per il prestito. Speravo di recuperare i soldi entro pochi mesi. Sì, lo so. Speravo di ripagarti a quest'ora, ma le cose non sono andate come previsto. Allora, cosa stai proponendo? Allora, cosa stai proponendo? Speravo che potessi darmi più tempo per ripagarti. Forse altri sei mesi? Speravo che potessi darmi più tempo per ripagarti. Forse altri sei mesi? Sei mesi? E' un sacco di tempo, John. Mi aspettavo di recuperare presto i soldi. Sei mesi? È un sacco di tempo, John. Mi aspettavo di recuperare presto i soldi. Lo so, e mi dispiace davvero tanto. Ma non posso permettermi di ripagarti in questo momento. Hai detto che stai attraversando momenti difficili. Puoi dirmi di più a riguardo? Hai detto che stai attraversando momenti difficili. Puoi dirmi di più a riguardo? Beh, ultimamente ho avuto delle spese inaspettate che hanno davvero esaurito i miei risparmi. E i miei affari non stanno andando bene come speravo. Capisco. Ma mi hai già dato diversi motivi per non essere in grado di ripagarmi. È difficile sapere a cosa credere. Capisco. Ma mi hai già dato diversi motivi per non essere in grado di ripagarmi. È difficile sapere a cosa credere. John, mi sento davvero frustrato da questa situazione. Mi fidavo abbastanza di te da prestarti una somma di denaro così consistente, e ora non sei sincero con me. John, mi sento davvero frustrato da questa situazione. Mi fidavo abbastanza di te da prestarti una somma di denaro così consistente, e ora non sei sincero con me. Mi dispiace davvero, Anna. Non voglio essere disonesto con te. Sto solo cercando di capire le cose. Mi dispiace davvero, Anna. Non voglio essere disonesto con te. Sto solo cercando di capire le cose. È solo che speravo di usare quei soldi per qualcosa di importante. E ora non sono in grado di farlo perché non mi hai ripagato. È solo che speravo di usare quei soldi per qualcosa di importante. E ora non sono in grado di farlo perché non mi hai ripagato. Lo capisco, Anna. E mi sento malissimo per questo. Ma prometto che ti restituirò il prima possibile. Non sono solo i soldi, John. È il fatto che non sei onesto con me. Sta creando molta tensione tra di noi. Non sono solo i soldi, John. È il fatto che non sei onesto con me. Sta creando molta tensione tra di noi. Lo so, e mi dispiace davvero tanto. Non avrei mai voluto che ciò accadesse. Lo so, e mi dispiace davvero tanto. Non avrei mai voluto che ciò accadesse. John, non voglio davvero che si arrivi a questo punto, ma se non mi ripaghi presto, potrei dover intraprendere un'azione legale. John, non voglio davvero che si arrivi a questo punto, ma se non mi ripaghi presto, potrei dover intraprendere un'azione legale. Lo capisco, Anna. E non voglio davvero che si arrivi nemmeno a questo. Lo capisco, Anna. E non voglio davvero che si arrivi nemmeno a questo. La cosa peggiore è che avevo dei piani per quei soldi. Piani che non sono in grado di portare a termine ora perché non mi hai ripagato. Mi dispiace davvero, Anna. Prometto che farò tutto il possibile per farmi perdonare da te. Non sono solo i piani, John. È il fatto che ora mi trovo in una posizione difficile perché non ho accesso a quei soldi. Non sono solo i piani, John. È il fatto che ora mi trovo in una posizione difficile perché non ho accesso a quei soldi. Lo so, e vorrei davvero poter fare qualcosa per aiutare. Lo so, e vorrei davvero poter fare qualcosa per aiutare. Lo capisco, Anna. E sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose tra di noi. Lo capisco, Anna. E sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose tra di noi. È difficile fidarsi di te adesso, John. Hai tradito la mia fiducia non essendo stato onesto con me riguardo al prestito e alla tua capacità di ripagarlo. Lo so, e mi dispiace davvero tanto. Non ho mai voluto ferirti o tradire la tua fiducia. Potrei dover chiedere una consulenza legale se non mi restituisci presto, John. Non è quello che voglio, ma non vedo altre opzioni. Potrei dover chiedere una consulenza legale se non mi restituisci presto, John. Non è quello che voglio, ma non vedo altre opzioni. Lo capisco, Anna. E farò tutto il possibile per evitare questo risultato. Lo capisco, Anna. E farò tutto il possibile per evitare questo risultato. Voglio solo che tu sappia che mi sento malissimo per questo, Anna. Non ho mai voluto metterti in questa posizione. Lo apprezzo, John. Ma ho bisogno di qualcosa di più delle semplici parole. Ho bisogno che tu agisca e risolva le cose. Lo capisco, Anna. E sono disposto a fare tutto il necessario per farmi perdonare da te. Inizierò a lavorare su un piano per ripagarti il prima possibile. Ok, questo è un inizio. Ma ho bisogno di vedere progressi reali, John. Devo sapere che sei seriamente intenzionato a ripagarmi. Tutta questa situazione è stata davvero stressante per me, John. Ho perso il sonno per questo e sta influenzando il mio lavoro e la mia vita personale. Mi dispiace davvero, Anna. Farò tutto il possibile per sistemare le cose e alleviare un po' di stress. Mi dispiace davvero, Anna. Farò tutto il possibile per sistemare le cose e alleviare un po' di stress. Anna, ci ho pensato molto. E potrei aver trovato una soluzione. Sto pensando di chiedere un prestito a qualcun altro per ripagarti. Ok, potrebbe funzionare. Ma ho bisogno di sapere che hai un piano solido per rimborsare anche quel prestito. John, odio dirlo, ma sono davvero scettico sulla tua capacità di rimborsare un altro prestito. Soprattutto se stai già lottando per ripagarmi. Capisco le tue preoccupazioni, Anna. Ma prometto di fare tutto ciò che è il mio potere per farlo funzionare. Capisco le tue preoccupazioni, Anna. Ma prometto di fare tutto ciò che è il mio potere per farlo funzionare. John, puoi dirmi di più sulla tua attività? Perché non sta andando bene? È stato davvero difficile farlo decollare. Ho avuto problemi a trovare clienti e a realizzare profitti. È stato davvero difficile farlo decollare. Ho avuto problemi a trovare clienti e a realizzare profitti. Hai pensato di trovare un lavoro che ti aiuti con le tue finanze? Hai pensato di trovare un lavoro che ti aiuti con le tue finanze? L'ho fatto, Anna. Ma voglio davvero far funzionare i miei affari. Non voglio ancora rinunciare. L'ho fatto, Anna. Ma voglio davvero far funzionare i miei affari. Non voglio ancora rinunciare. Lo capisco, ma devi anche essere realistico riguardo alle tue finanze. Non puoi continuare a prendere in prestito denaro e non essere in grado di ripagarlo. Non puoi continuare a prendere in prestito denaro e non essere in grado di ripagarlo. Lo so, Anna. E mi sento davvero sopraffatto da tutta questa situazione. Non so cosa fare. Lo so, Anna. E mi sento davvero sopraffatto da tutta questa situazione. Non so cosa fare. Va bene, John. Lo scopriremo insieme. Ma dobbiamo elaborare un piano che funzioni per entrambi. Va bene, John. Lo scopriremo insieme. Ma dobbiamo elaborare un piano che funzioni per entrambi. John, sono disposto ad aiutarti a elaborare un piano per uscire da questa situazione. Ma ho bisogno di sapere che sei pienamente impegnato a farlo funzionare. John, sono disposto ad aiutarti a elaborare un piano per uscire da questa situazione. Ma ho bisogno di sapere che sei pienamente impegnato a farlo funzionare. Lo sono, Anna. Sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose. Lo sono, Anna. Sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose. Ok, è un buon inizio. Ma penso che dovresti anche prendere in considerazione la possibilità di richiedere una consulenza finanziaria. Potrebbero esserci opzioni a cui non hai ancora pensato. Ok, è un buon inizio. Ma penso che dovresti anche prendere in considerazione la possibilità di richiedere una consulenza finanziaria. Potrebbero esserci opzioni a cui non hai ancora pensato. Buona idea, Anna. Inizierò a indagare. Ma sono anche preoccupato per il costo della consulenza finanziaria. Faccio già fatica a ripagarti. Non so se posso permettermelo. Ma sono anche preoccupato per il costo della consulenza finanziaria. Faccio già fatica a ripagarti. Non so se posso permettermelo. John, il costo della mancata consulenza finanziaria potrebbe essere molto più alto. Vale la pena investire se ti aiuta a tornare in pista. John, il costo della mancata consulenza finanziaria potrebbe essere molto più alto. Vale la pena investire se ti aiuta a tornare in pista. Voglio solo che tu sappia che sono qui per te, John. Voglio aiutarti a superarlo. Ma devo anche assicurarmi che la mia situazione finanziaria sia sicura. Voglio solo che tu sappia che sono qui per te, John. Voglio aiutarti a superarlo. Ma devo anche assicurarmi che la mia situazione finanziaria sia sicura. Lo capisco, Anna. E apprezzo molto il tuo supporto. Lo capisco, Anna. E apprezzo molto il tuo supporto. Un'altra cosa che potrebbe essere utile è creare un budget. In questo modo, puoi vedere esattamente dove vanno i tuoi soldi e trovare aree in cui puoi ridurre. Un'altra cosa che potrebbe essere utile è creare un budget. In questo modo, puoi vedere esattamente dove vanno i tuoi soldi e trovare aree in cui puoi ridurre. Buona idea, Anna. Inizierò a lavorare anche su quello. Buona idea, Anna. Inizierò a lavorare anche su quello. Sai, Anna, comincio a sentirmi più fiduciosa al riguardo. Penso che con il piano giusto e un po' di duro lavoro, possiamo farcela. Sai, Anna, comincio a sentirmi più fiduciosa al riguardo. Penso che con il piano giusto e un po' di duro lavoro, possiamo farcela. Volevo solo ringraziarti ancora, Anna. So di averti messo in una posizione difficile e ti sono grato per la tua comprensione e il tuo sostegno. Certo, John. Siamo amici e voglio vederti avere successo. Ma dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione che funzioni per entrambi. La comunicazione sarà fondamentale per il futuro. Dobbiamo essere onesti gli uni con gli altri riguardo alle nostre aspettative e alle eventuali modifiche al piano. Assolutamente, Anna. Prometto di tenerti aggiornato in ogni fase del processo. Assolutamente, Anna. Prometto di tenerti aggiornato in ogni fase del processo. Sai, Anna, mi sento più motivata che mai a sistemare le cose. Non voglio deluderti di nuovo. Sai, Anna, mi sento più motivata che mai a sistemare le cose. Non voglio deluderti di nuovo. Sono felice di sentirlo, John. Ma ricorda, le azioni parlano più delle parole. Un'altra opzione che potresti prendere in considerazione è il consolidamento del debito. In questo modo, puoi combinare tutti i tuoi debiti in un'unica rata mensile con un tasso di interesse inferiore. Un'altra opzione che potresti prendere in considerazione è il consolidamento del debito. Buona idea, Anna. Lo esaminerò. Buona idea, Anna. Lo esaminerò. Sai, Anna, con tutte queste idee e opzioni, comincio a vedere una via d'uscita da questa situazione. Penso che possiamo farlo funzionare. Sai, Anna, con tutte queste idee e opzioni, comincio a vedere una via d'uscita da questa situazione. Penso che possiamo farlo funzionare. Sono felice di sentirlo, John. Ma abbiamo ancora molto lavoro da fare. È importante attenersi al piano, John. Non possiamo continuare a cambiare rotta ogni volta che qualcosa non funziona. È importante attenersi al piano, John. Non possiamo continuare a cambiare rotta ogni volta che qualcosa non funziona. Hai ragione, Anna. Mi impegno a rispettare il piano e a fare tutto il necessario per farlo funzionare. Hai ragione, Anna. Mi impegno a rispettare il piano e a fare tutto il necessario per farlo funzionare. Sai, Anna, mi sento più ottimista per il futuro. Penso che possiamo superarlo e uscirne più forti dall'altra parte. Sono felice di sentirlo, John. Ma non anticipiamo noi stessi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Devo ammetterlo, John. Sto iniziando a vedere dei progressi. Sei stato più comunicativo, e stai iniziando ad agire per affrontare la situazione. Devo ammetterlo, John. Sto iniziando a vedere dei progressi. Sei stato più comunicativo, e stai iniziando ad agire per affrontare la situazione. Sono felice di sentirlo, Anna. Mi impegno davvero a sistemare le cose. Sai, Anna, capisco di aver perso la tua fiducia. Ma spero che con il tempo e l'impegno, riuscirò a riguadagnarlo. Non ci vorrà solo tempo, John. Ma sono disposto a darti la possibilità di metterti alla prova. Un'altra cosa che potresti prendere in considerazione è trovare un lavoro part-time per aiutarti con le tue finanze. Non deve durare per sempre, finché non ti trovi in una posizione finanziaria migliore. Buona idea, Anna. Inizierò a indagare anche su questo. Buona idea, Anna. Inizierò a indagare anche su questo. Sai, Anna, comincio a sentirmi più padrone della situazione. Penso che siamo sulla strada giusta. Sai, Anna, comincio a sentirmi più padrone della situazione. Penso che siamo sulla strada giusta. Sono felice di sentirlo, John. Ma non lasciamoci con piacere. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. È importante seguire il piano, John. Non possiamo lasciare che le cose scivolino o vadano fuori strada. Hai ragione, Anna. Mi impegno a fare tutto il necessario per farlo funzionare. Hai ragione, Anna. Mi impegno a fare tutto il necessario per farlo funzionare. Sai, Anna, mi sento più fiducioso per il futuro. Penso che possiamo invertire questa situazione e uscirne più forti dall'altra parte. Sono felice di sentirlo, John. Ma non anticipiamo noi stessi. Abbiamo ancora molto lavoro da fare. Ricorda, John, che la comunicazione è fondamentale. Dobbiamo essere onesti l'uno con l'altro sui nostri progressi e sugli eventuali ostacoli. Ricorda, John, che la comunicazione è fondamentale. Dobbiamo essere onesti l'uno con l'altro sui nostri progressi e sugli eventuali ostacoli. Assolutamente, Anna. Prometto di tenerti aggiornato in ogni fase del processo. Assolutamente, Anna. Prometto di tenerti aggiornato in ogni fase del processo. Volevo solo ringraziarti ancora, Anna. Non avrei potuto farlo senza il tuo supporto e la tua guida. Volevo solo ringraziarti ancora, Anna. Non avrei potuto farlo senza il tuo supporto e la tua guida. Certo, John. Siamo amici e voglio vederti avere successo. Certo, John. Siamo amici e voglio vederti avere successo. Devo ometterlo, John. Anch'io sono più ottimista per il futuro. Penso che possiamo farlo funzionare. Sono felice di sentirlo, Anna. Continuiamo a lavorare insieme e superiamo questa situazione. Ripensandoci, John, abbiamo fatto molta strada da dove siamo partiti. Sono orgoglioso dei progressi che abbiamo fatto. Anch'io, Anna. Non ce l'avrei fatta senza di te. Anch'io, Anna. Non ce l'avrei fatta senza di te. Continuiamo ad andare avanti, John. Abbiamo un piano in atto e dobbiamo attenerci ad esso. Hai ragione, Anna. Mi impegno a fare tutto il necessario per farlo funzionare. Mi sento più fiducioso che mai, John. Penso che possiamo invertire questa situazione e uscirne più forti dall'altra parte. Mi sento più fiducioso che mai, John. Penso che possiamo invertire questa situazione e uscirne più forti dall'altra parte. Mi sento allo stesso modo, Anna. Continuiamo a lavorare insieme e facciamo in modo che accada. Mi sento allo stesso modo, Anna. Continuiamo a lavorare insieme e facciamo in modo che accada. Sai, John, penso che dovremmo prenderci un momento per festeggiare i nostri progressi. Abbiamo fatto molta strada. Ottima idea, Anna. Facciamolo. Ma non lasciamoci con piacere. Abbiamo ancora del lavoro da fare e obiettivi da raggiungere. Ma non lasciamoci con piacere. Abbiamo ancora del lavoro da fare e obiettivi da raggiungere. Hai ragione, Anna. Mi impegno a portare avanti tutto questo fino alla fine. Hai ragione, Anna. Mi impegno a portare avanti tutto questo fino alla fine. Voglio solo dire, John, che sono grato per la tua amicizia e il tuo impegno nel sistemare le cose. E sono grata per il tuo sostegno e la tua guida, Anna. Siamo una grande squadra. E sono grata per il tuo sostegno e la tua guida, Anna. Siamo una grande squadra. Grazie.